Oggi provo il drenaggio di questo motore. Il filtro del vino funziona alla grande, ma veramente alla grande. Non si intesa più, quindi posso provarla. Perchè così almeno regolo anche la pressione. Praticamente con questi rughinetti posso andare a regolare anche la pressione degli spruzzatori. E si possono anche regolare anche il filtro. Si possono regolare anche tutti. Allora ragazzi alla prossima. Ciao. Dopo le mesi il mio tentativo sembra che adesso la vi bene. Ho dovuto togliere gli spruzzatori perchè erano proprio piccoli. Per quanto riguarda questa pasta è veramente grande. Gli spruzzatori che si trovano in commercio sono un po' piccoli per questa roba qua. Adesso proviamo un po' sui tasti. Per in penzenza usata la canalina basta tenere in bolla questi piedi. E la canalina in automatico trova la penzenza usata. Allora. Allora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.